Per favore, non cominciamo, 35 anni, ho un figlio, arriviamo a stringere, ma sammi come ti chiami, perché non è cattiveria, però tu mi dici quello che c'è stato qua dentro, non c'è stato fuori un'altra realtà, guarda che noi eravamo gli stessi. Abbiamo detto per sei mesi quello che volevamo io, quello che volevi tu, adesso capiamo perché non è andata, capiamo che sei venuto a fargiullare e che giustamente non hai mai provato amore nei miei confronti, non ti è mai importato niente di quello che ti ho dato. Sinceramente, esco da qui, quello che mi aspetta, almeno è da una persona leale che si prende la responsabilità di dire, guarda Giovanni non mi sei piaciuta, ma hai pure voluto da colpe, rinfangandomi e provando a dire che ero pesante, io manco te lo faccio dire. Cioè prima, no perché prima avevi uno sguardo, avevi sai quelle cose che io dicevo che erano vere, che mi destabilizzavo, adesso non puoi pensare di mettermi in tasca perché ci gioco con uno come te, con un uomo che poi ha giocato con i miei sentimenti, tesoro mi ci gioco a casa. Le carte, faccio scopo, ho fatto un brisco, l'arrivo, puoi capire, pure tre sette, figurati. Poi se io sto venuto a fargiullare, puoi fare sempre stare da bravo ragazza, anche nella nostra vita, nella nostra piccola e breve storia, lei se nasconde dietro questo aspetto da puritana, da quello che vuole mostrare qua in televisione, quando poi in realtà è un altro.